bentornati e bentornate sul canale sono green van sheep secondo episodio di little alchemy dunque stiamo facendo i nostri esperimenti e oggi volevo proseguire un pochino con voi e scoprire altri elementi del gioco allora c'eravamo fermati che avevamo scoperto praticamente l'isola adesso faccio subito qualche tentativa ecco per esempio unendo la terra e la pianta abbiamo scoperto l'erba ok poi poi vediamo un po terra ed erba non funziona ho duplicato l'erba ok se io unissi per esempio l'erba con la pioggia non funziona forse con l'acqua o abbiamo scoperto la rugiada allora la rugiada non può essere ulteriormente unità la tiriamo via cioè l'ho solo spostata ma vabbè l'erba con il giardino non funziona pensavo di creare le erbacce non lo so qualcosa insomma non è semplice mano a mano che si va avanti non è semplice l'erba e l'isola non funziona vediamo fatemi provare perché qui non è semplice uno si deve un attimino cervellare allora il terremoto con l'oceano abbiamo creato lo tsunami ok proviamo con qualcos'altro a questo punto tipo tipo l'aria e l'energia ok abbiamo creato il vento abbiamo il vento benissimo vento e aria non funziona vediamo se ok allora due volte vento non funziona il vento e l'energia abbiamo creato l'uragano è interessante questa cosa cos'altro potremmo fare con la casa non succede niente oh il vento e la casa hanno generato il mulino a vento il mulino a vento con le piante non funziona aspetta un momento con la terra non funziona magari potevamo creare che ne so un deposito di grano il fango lo avevamo già con l'energia credevo girassero le pale invece niente magari veniva fuori una pale eolica non si sa mai ah guardate ho scoperto questa cosa tenendo premuto su un elemento ci dice come lo abbiamo creato è utile è una cosa molto utile qui non ci siamo molto eh allora la terra con il terremoto abbiamo creato la montagna abbiamo la montagna molto bene ma tipo se faccio così la neve no il fiume il fiume abbiamo scoperto il fiume ok e il fiume con cosa con l'acqua beh vabbè grazie l'acqua fiume è acqua ok con la terra no non succede niente con il vento non succede niente ho duplicato il fiume ma vabbè due fiumi non succede niente ecco due isole creano un arcipelago ottimo due terremoti non concludono niente abbiamo sempre oh montagna e fiume abbiamo creato la cascata e ci sono degli abbinamenti interessanti che sono anche da un certo punto di vista sono anche logici naturalmente però non lo sono tutti cioè non è sempre semplice capire la logica che ci sta ecco tipo per esempio la parete e il fiume abbiamo creato la diga però volendo una diga si può formare anche con dei pezzi di legno per esempio con dei tronchi ci può pensare il castoro invece due volte la pioggia pioggia unita con se stessa arriviamo all'alluvione che non può essere unita con nient'altro due volte oceano non funziona due volte nuvola non funziona due volte mulino a vento non funziona due volte montagna catena montuosa che può essere unito a qualcos'altro volendo tipo la pioggia no tipo un'altra catena montuosa no all'acqua no magari viene fuori un ghiacciaio non lo so un lago qualcosa vediamo con la pioggia non succede niente terra non succede niente oceano aspetta con il vulcano non succede niente ma può sembrare facile questo gioco ma non è facile allora se unissi invece per esempio la polvere da sparo con il vapore no l'acqua forse ah con la terra il geyser e il geyser non può a sua volta essere unito a niente altro quindi è un elemento finito ok puliamo tutto e a questo punto proviamo qualcos'altro vediamo il vento con l'oceano abbiamo creato l'onda cioè l'onda del mare o qualcosa come invece un'onda sonora ad esempio ok devo riflettere un attimino su cosa intendono per onda e intanto vediamo se magari si può unire a qualcos'altro solo che non saprei nemmeno io cosa proviamo con boh non lo so con l'energia no con l'energia non succede niente con l'energia non succede niente con cos'altro potremmo oh abbiamo creato il suono un'onda e l'aria abbiamo creato il suono ok bene ragazzi comunque per oggi ci fermiamo qui vi ringrazio per avermi seguito spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mettetemi un bel mi piace commentate e condividete per non perdere nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi seguitemi sui social trovate i link in basso in descrizione buon proseguimento a tutti